Tutti a vuoto, anche Laner forse col braccio, l'intervento difensore che poi viene trattenuto era Aquilanti. L'intervento sospetto di Aquilanti forse col braccio, alla fine dell'azione lo rivediamo, intanto parte il contropiede. Attenzione allo scatto di Pepe, Pepe che la tocca ora con il braccio e arriva il cartellino per Laner, mentre attenzione si spingono, si spingono Cacciatore e Pepe, giallo per Cacciatore, giallo per Pepe. Ma Cacciatore forse era stato ammonito in occasione della punizione in area, quando era uscito dalla barriera, no, non era Cacciatore, era Maglietta, sì, era Maglietta. Dunque Maglietta e Cacciatore sono i due ammoniti nelle file del Verona, mentre ammonito Pepe.